Faventibus Ventis, che i venti ti siano favorevoli, è il motto della Palinuro, 79 anni di vita, tutti trascorsi in alto mare, curata in ogni dettaglio e tirata lucido da un equipaggio di 82 militari di cui 6 donne, integrato da altri 30 durante l'attività operativa e da circa 40 lievi sotto ufficiali per complessivi 138 posti letto. Benvenuti sulla nave scuola della Marina Militare, tornata a Bari per la settima volta, l'ultima nel 2006, alla guida del comandante Panarello. Un rapporto fortissimo con la città di Bari, anzitutto perché un buon numero dei membri del mio equipaggio, siamo 112 oggi, è pugliese. E poi il secondo motivo è che non potevamo non fermarci in questa città al termine della prima fase della campagna di istruzione, perché abbiamo voglia di incontrare la popolazione. Ben 15 vele, ci vogliono ben 50 persone per gestirle. Lo storico veliero fu acquistato dalla Marina nel lontano 51, a vela, per consentire la lunga permanenza in mare. I sotto ufficiali selezionati vengono addestrati secondo i valori della Palinuro. Lavoro di squadra, amore per il mare, capacità di condivisione, sensibilità al sociale. Sabato e domenica infatti aprirà i piccoli dell'oncologico e del policlinico e ad un'associazione di portatori di handicap. È come imbarcare a bordo di una grande palestra, una palestra di 59 metri. Vivere a bordo di questa nave significa imparare a conoscere e rispettare gli elementi, il vento e il mare. Significa imparare a conoscere e rispettare il mezzo che va curato e mantenuto da prora a poppa dall'alto verso il basso. La Palinuro ha fatto anche da supporto l'attività scientifica ospitando sei ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che a largo del Gargano hanno scoperto microvortici da emissioni gassose. Torneremo, ha detto il direttore dell'Unità di Geofisica Marina Carniciano, per meglio conoscere la struttura geologica della faglia di mattinata.